My Face, My Work è un racconto fatto di racconti, una storia nata qualche anno fa. Io sono un sognatore, uso gli strumenti che sento miei per creare progetti che ritengo abbiano un concetto profondo e umano. Se volete saperne di più, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i nuovi episodi. Io sono Fabio Massimo e questo è... My Face, My Work Il mio messaggio è quello di credo in qualcosa di positivo, di bello... Amico mio, abbiamo un messaggio che... Abbiamo un ponte sui cuori noi due. No, è quello che mi spinge a tutti, veramente, veramente. Fai guarda che potrei essere felice, perché la felicità è una scelta. Esatto. Ok, let's go! Ciao Pietro, come stai? Molto bene, molto bene. Momento felice della vita. Con quale nome sei conosciuto? Il mio, quasi per fortuna, a tratti, a tratti... Mi hai fatto già una domanda che mi mette in difficoltà. E' combattuta come cosa? Sono conosciuto come Pietro Morello. Che quindi nome e cognome, così come sono. Ogni tanto mi sento un po' un pirla, perché non ho il nickname figo. Che è da Shade, Wilbush, Giotobi. Però... Però sono comunque contento di aver fatto questa scelta. Molto inconsapevole come scelta. A tratti però, quello che ho avuto come riflessione, è che ti permette di scendere abbastanza persona e personaggio. Per quanto sia importante far sì che il personaggio sia l'espressione massima della persona, e quindi non ci sia una distanza molto grande tra i due, ogni tanto riuscire a scenderli, e quindi poter essere il personaggio e poi Pietro... Mi rendo conto che potrebbe essere utile emotivamente. Però per adesso vado a puliscio. Che lavoro fai? Oddio. Remunerativamente parlando, il content creator. Ormai è stato riconosciuto anche come lavoro, quindi lo posso dire tranquillamente. Quindi la creazione di video, di contenuti nel mondo digitale, che intrattengono, spero, il più possibile, e passano anche il maggior numero di messaggi positivi, spero possibile. Invece emotivamente parlando, il lavoro con i bambini, sto diventando sempre in modo più solido un operatore umanitario, nelle missioni umanitarie, nelle zone di povertà, nelle zone di guerra, con i bambini sempre, e negli ospedali. Quindi nei reparti oncologici, nei reparti terminali. E lì si entra tutto nel discorso della musicoterapia, che sto studiando. Musicoterapia, e quindi mi occupo di recupero dell'infanzia e garanzia dei diritti dell'infanzia. Anche se ho scisso emotivamente e remunerativamente, poi le due cose si incrociano. Il content creator come lavoro emotivamente mi dà tantissimo. Però i bimbi sono i bimbi. È ciò che sognavi da bambino? No. Io da bambino volevo fare l'inventore. Quindi sì, in realtà, è un po' un... È difficile. Non ho mai sognato di fare l'astronauta, il medico, quindi lavori meravigliosi che stimo infinitamente, ma definiti. Volevo fare l'inventore. E credo che creare contenuti per l'intrattenimento e creare contenuti per i bambini, rimanendo nella fascia appunto della musicoterapia e del recupero dell'infanzia, sia un po' l'essersi inventati, no? Poi non ho inventato niente di nuovo, però la voglia di dimettersi in gioco per comunicare, dover creare delle idee, dover assecondare le idee che mi vengono di sera, del... Oh, posso suonare questa cosa? Ecco, assecondare quello alla fine vuol dire anche un pochino inventarsi. Quindi posso dire che non era proprio quello che intendevo, però sono arrivato vicino. Cosa ti piace fare nel tempo libero quando non sei sui social? Eh, allora... Il tempo libero cerco di non averlo. Perché è molto deleterio per me per adesso. Voglio potermelo godere. Sto lavorando per riuscire a godermelo. Sto facendo un percorso con una psicologa per riuscire a godermi il tempo libero. Per adesso un po' per la sindrome dell'impostore e un po' perché non mi piace avere le mani dentro le mani. Il tempo libero cerco di averne veramente poco e ne ho veramente poco. Se consideri quello che non sono i social, il tempo libero, allora sono i bambini. Tantissimo. Io passo mesi, via. Ho giornate interne in ospedale che sono... Alla fine, il modo di impiegare il mio tempo libero. Quando hai iniziato i social e perché? In modo ambizioso ho iniziato tanti anni fa, quando io suonavo per strada, come artista di strada, per l'amore di condividere la musica e per l'amore di mettermi... Un po' egocentrismo, no? Cioè c'è tanto egocentrismo nel mio modo di essere. A me piace essere guardato e anche lì sarei ipocrita a non ammetterlo. Mi piace essere guardato, mi piace essere osservato, essere quello un po' al centro. E quando avevo 15-16 anni andavo a suonare in centro a Torino, avevano messo un pianoforte alla stazione di Porta Nuova e io stavo lì tutti i sabati, 6 ore, tutto il pomeriggio. E l'ho fatto per un anno, tutti i sabati. E un sacco di persone venivano ad ascoltare... Un sacco, cento persone, ma cento persone in live che ti venivano ad ascoltare il sabato in una stazione. Era fighissimo. Si era creato proprio un bello ambiente e lì ho cominciato a mettere i video sui social, su Facebook, al tempo. Andavano come no, nel senso che facevo i miei primi duemila di piace, che comunque per me erano figo, ero contentissimo. Stessa cosa su Instagram, poi è arrivata la quarantena. E la quarantena è stato un momento di noia a tal punto da dire, sai che c'è? Facciamo qualcosa di più. Proviamo. Il famigerato TikTok. Tutti lo criticano, tutti le parlano male. E poi... E su TikTok ho iniziato appunto un po' per caso, un po' per gioco. Ha fatto numeri che io non mi aspettavo. Io mi divertivo, facevo musica. Raccontavo la musica, facevo le sfide, suona più veloce, suona bendato, suona con, fai le cose, fai un flauto con le carote e tutte queste cose qua. E io ho cominciato a fare la stessa cosa che facevo con i bambini, ovvero costruire strumenti musicali con cose che non dovrebbero suonare, tipo le carote, tipo i cocchi e queste cose qua. E piaceva molto, ha fatto una bella esplosione, dedicavo tantissimo tempo perché durante la quarantena c'era quello. E poi da lì è tutto un po' nato, no? Da quello mi sono reso conto che YouTube è uno strumento per comunicare con più calma e quindi ho cominciato anche lì, ho cominciato a conoscere tantissime persone che sono diventati i miei grandi amici che lavorano sul mondo dei social da molto più tempo di me e mi hanno spiegato. Mi hanno detto, è un vero lavoro, puoi farlo. e quindi mi hanno spronato a farlo ancora di più. Eccomi qua. Quanto è importante oggi giorno stare sui social? Quanto più fondamentale. Nel senso che ci sono due facce di stare sui social, no? Creare e fruire. Una non esclude l'altra. Quindi creare può voler dire, anzi deve voler dire fruire. Fruire dei social vuol dire informarsi ormai, imparare tanto. Si impara tanto dei social. Bisogna essere capaci di filtrare perché sui social c'è tanto negativo. Tanto. E capisco molto bene il perché molte persone criticano e si distanziano, si allontanano dai social. Non capisco chi, cioè non capisco, voglio non capire chi non ci vuole mettere piede con una forma di blocco mentale del no, 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 io mi informo con altro. Eh, sbagli. Sbagli perché non si parla più di futuro. I social non sono il futuro. È stupido chi dice che i social sono il futuro. I social sono il presente. Apparante sono già il passato. Cioè sono un passato molto prossimo, però comunque sta arrivando ad esserlo. I social permettono di informarsi, permettono di informare, permettono di comunicare in modo molto sano, di differenziare i messaggi. Sui social ci possono essere cose per bambini. Possono. E il ruolo dei genitori è essere fruitori dei social insieme ai bambini. Non dire hai mezz'ora sui social e poi ti tolgo il telefono. È in quella mezz'ora come lo controlli? Magari sta guardando video di qualcuno che bestemmia, di qualcuno che beve, di qualcuno che gli da l'altra il denaro e basta. Eh, no. Quelli non sono contenuti per bambini. Sono contenuti di intrattenimento. Adesso alcuni a me non garbano perché siamo lontani, ma questo non importa, non deve piacere tutto, non deve essere tutto politically correct e perfettino. Va bene che ci sia ironia, che ci sia black humor, sono il primo spesso a farlo con gli amici. Il concetto è, ci sono delle fasce e bisogna rientrare in quelle fasce. La fasce dell'informazione è diversa da quella dell'infanzia che è diversa da quella ludica per gli adulti. Quindi i social sono molto importanti, non devono essere l'unico strumento di informazione, ma sono molto importanti. Quanto è difficile stare sui social. Ma sai che c'è un mare di risposte. Poco, perché non è un lavoro duro come stare in un ufficio tutto il giorno o andare a picconare. Mai lo pensate, mai lo paragonerei. Tanto perché c'è una costante esposizione mediatica e nell'istante in cui c'è un fondo pedagogico, magari in quello che si dice, o comunque c'è un impegno nel fare le cose fatte bene, c'è anche la costante pressione di sbagliare. Io ho una paura pazzesca di sbagliare, perché io non ho la verità in tasca. Anzi, io ho da imparare tutto. Ho pochissime nozioni mie. Ho 23 anni, non ho mai, non ho ancora avuto il tempo di imparare abbastanza. Però tutto quello che dico, tutto quello che passa, deve essere perfetto. Io non voglio permettermi di fare errori pubblici. Faccio tanti errori miei, però non quando sono davanti a una telecamera e non quando mi possono guardare centinaia di migliaia di persone. Perché ci sono ragazzini e anche perché ci sono persone molto pronte a criticare. Quindi, l'altro ponte di difficoltà lo trovo nel dover avere un'idea. Non creare contenuti vuol dire sparire. Non ti puoi permettere di prenderti una pausa. Devi continuare. Se non hai idee, devi avere un'idea. E quello forse è un po' la morte della creatività, però non è difficile. Basta prenderlo nel modo giusto. I social che paure ti generano tante. La sindrome dell'impostore, di cui io sono immerso fino al tallone come Achille tantissimo. Perché io passo le mie giornate a dire, ma perché la gente mi ascolta? Perché io sono conosciuto io? Perché mi hanno conferito un premio per la pace? Perché me lo merito? Non me lo merito. E bisogna scendere un po' a patti con questa cosa. E poi ho paurissima di sparire. È inutile negarlo. È inutile dirselo solo tra content creator quando ci vediamo sul divano di casa e non dirlo durante la telecamera. Caccio, sdoganiamo queste cose. Tutti noi abbiamo paura. Tutti noi non è vero. C'è chi per fortuna ha trovato la strada ed è tranquillo. Ma io ho tanta paura. Che se un video va male, non mi vogliono più. E se non faccio video per dieci giorni perché non ho idee. E io adesso sono dieci giorni che non pubblico. Oggi. Sai che ansia che ho? Dai sono sparito. Boh, non mi guarda più nessuno. È finito. Arrivederci. Vado a fare altro. E che poi non è vero nel pratico. Però tanta paura. Tanta paura. Devi creare. Devi. Devi creare. E entri un po' in un turbine. Però comunque non voglio che venga a fare intesa. Io sono felicissimo di come sta andando tutto. E molto grato alla vita di tutto questo. Però nascondere le paure è una cagata. Quindi bisogna dirle. Quanto contano i numeri? Allora, i numeri non sono sinonimo di qualità. Assolutamente. Cioè, lo sono a tratti. Ci sono persone che fanno contenuti di qualità e hanno numeri molto alti. ma non sono sinonimo né di qualità per quanto riguarda il contenuto a livello oggettivo. Quindi qualità video, audio e tutto il resto. E non sono sinonimo di qualità comunicativa, di messaggi positivi. Anzi, è facile fare numeri provocando. A tratti è anche molto giusto fare numeri provocando. Andando fuori dalle righe, rompendo gli schemi e urlando al mondo che bisogna cambiare. Il punk ha fatto i numeri in questo modo. Ed era fantastico. Contano, però, tanto. Contano come la spuntina blu. Cioè, la spuntina blu non dà niente. Non ti cambia la vita, non ti cambia i messaggi, non parli con più persone. Però conta a livello di immagini di come ci si presenta. Che da una parte è triste, perché un po' corrisponde a... Se ti presenti in una villa con una BMW, fai una figura diversa che come una panda. Che è triste. È molto triste. Vuol dire guardare al contenitore, non al contenuto. Dall'altra parte è fisiologico. Se tu sei arrivato ad avere due milioni, nella testa di chi ti guarda bene o male vuol dire che sei interessante, che hai qualcosa da dire. Che purtroppo è grave perché ci sono persone che per mille motivi sui social non emergono a livello di numeri, non fanno i miliardi, ma sono pazzeschi. Uno dei miei migliori amici è un pianista incredibile, non sta facendo milioni, però fa dei contenuti secondo me bellissimi. E soprattutto ha una competenza in campo musicale allucinante. È normale, è fisiologico. Bisogna un po' combattere, un po' farci pace. Sicuramente purtroppo parlo da una posizione privilegiata. È facile far pace quando i numeri li hai. Lo dico non con presunzione di averli. Oggettivamente ci sono numeri alti. È facile farci pace. Cioè bisogna lottare anche per questo. Quindi promuovere invece chi ha meno numeri, ma secondo me ha un contenuto anche migliore del mio. Cosa cambia nel sito di social? È una domanda. 10 milioni di dollari. Chi trova la soluzione deve avere almeno 10 milioni di dollari in cambio. L'algoritmo di riconoscimento di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, anche se è presuntuoso sapere, dire di sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, non lo so cosa è giusto e cosa è sbagliato. Diciamo che però, parlando chiaro chiaro, essere bannati perché in un video c'è una parola sbagliata, ma un concetto molto positivo, che espande positività. Quando in realtà non viene bannato chi la parola sbagliata non la dice, ma passa il tempo a insultare, passa il tempo a negativizzare i social, allora c'è un algoritmo di contrasto, no? Non si può bannare un termine senza guardare in che cosa è inserito. Perché usare una parola offensiva, per spiegarla magari, io vengo bannato per questo motivo. Se io spiego una parola in sé che viene ritenuta offensiva, ma lo spiego col sorriso e dico perché non va utilizzata, e dico che la positività è più bella della negatività, vengo bannato. Se invece qualcuno non usa quella parola, ma insulta, critica, muove persone negativamente verso. Se ci sono influencer che dicono andate da lui a dire che è una merda, eh no, 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 non puoi fare così. Stai legittimando il bullismo, lo stai creando anzi. Ecco, quelle persone spesso non vengono bannate. Quindi quella è una delle prime cose secondo me, creare un ambiente positivo, bello, sano. Da quando hai iniziato i social ti hanno cambiato? Mi hanno dato molte opportunità, mi hanno dato molta sicurezza in me stesso, mi hanno tolto sicurezza in me stesso in altri campi, mi hanno fatto conoscere un sacco di amici, mi hanno fatto perdere un po' di amicizie, perché sto meno con le persone, ma non per mia scelta, sono sempre via. E sono felice di essere sempre via. Però ci sono persone che hanno un legame abbastanza profondo da accettarlo e da starmi vicino, e persone che invece non mi capiscono, non mi ascoltano, e spesso e volentieri persone che dicono eh da quando è famoso non c'è più, e che poi non sono famoso, io non so nessuno, però da quando è conosciuto, da quando è sui social, l'ha fatto con presunzione, l'ha fatto con... Ci sta, anche questo è fisiologico. I social spero che non mi abbiano cambiato come persona, o se l'hanno fatto che mi abbiano semplicemente reso più consapevole, più maturo, più calmo nei giudizi. Questo penso di notarlo. Sono meno impulsivo, sono meno estremista, sono più calmo e pacato nelle considerazioni. Sono un po' più agitato, sono un po' più di corsa. Quindi i social sì mi hanno cambiato, ma spero, prego e lavoro in funzione del fatto che non mi cambino mai come altezzosità. Io voglio continuare a sentirmi al pari, se non leggermente sotto molte persone. quando mi hanno conferito il premio per la pace, la prima cosa che ho detto è io lo merito meno di Paola, presidentessa di Una Mano per un Sorriso, e di Dennis, presidente di Ocapia. Perché loro hanno fatto di più in campo umanitario di me, per più anni banalmente. Capisco perché mi è stato conferito, lo accetto, ci ho messo sei mesi ad accettarlo, ad apprezzarlo, però preferisco continuare a ritenermi in questo posto qua. spero di farcelo. Sei consapevole di quanto la tua persona sia influente? Forse non al 100%, ma mi impongo di essere il più possibile proprio perché sono influenze, cioè proprio perché le persone comunque ascoltano. Lo sono molto, molto, molto meno di altri, lo sono molto più di molti altri, e voglio esserne consapevole per sfruttarlo nel modo migliore possibile, per non perdere il treno della comunicazione e anche per non far cazzate. Perché io comunque ho 23 anni, comunque sono un cazzoncello, cioè io ho la mia indole, spero che mi rimanga, un po' infantile del gioco, della sperimentazione, del fare errori, e voglio che trasparia anche questo. Non può esserci un personaggino perfetto, tutto lindo, pulito, tutto perfetto nella comunicazione. Ci sta che ognuno abbia la propria personalità, però essere consapevoli della propria influenza sulle persone ti rende magari, ti dà qualche freno in più che è meglio avere. Quanto contesti l'origine? Dipende da quale è il tuo obiettivo. Cioè se il tuo obiettivo è la notorietà, neanche più così tanto. È bello omologarsi a far parte di un gruppo, è bellissimo far parte di una nicchia o anche di un gruppo molto ampio, che non è più nicchia, ma che comunque è un gruppo di appartenenza. È bello fare un po' copiazzarsi a vicenda, ma rielavorare le idee degli altri. E io non è che adesso non siamo proprietari delle nostre idee, lo siamo nell'istante in cui quelle idee hanno un'influenza, un fondamento. Però se quest'idea è un video che fa ridere, che è comico, se qualcuno lo prende come spunto, ma ben venga, vuol dire che ha dato lo spunto a qualcuno, cacchio, sì, fiero di questo, invece che dire era la mia idea. Guarda che figata che ha fatto lui con la tua idea, potevi farlo tu, scusa. Essere originali può contare moltissimo nei risultati in cui ti vuoi distinguere. Per me è quasi fondamentale, spesso non ci riesco a distinguervi quanto vorrei, ma l'originalità comunicativa se ti appaga è importante. cosa intrattiene lo spettatore davanti a un format che si ripete? La coerenza con il format che hai creato, ma al contempo la grandissima variabilità di contenuto. Suonare gli oggetti è un format, però devi passare da suonare una carota a suonare un aspirapolvere, perché se suoni la carota, lo zucchino, il cetriolo, tutte cose che hanno la stessa forma, ma se invece vari allora stai facendo un po' la strada che io penso essere quella giusta. Poi secondo me per quanto si tende ad essere originali non bisogna mai essere estremamente coerenti con se stessi. Va bene cambiare, va bene sperimentare, va bene anche sbagliare. Da cosa sei ispirato? Cosa ti spinge a condividere? Sono due domande tanto diverse. Da cosa sono ispirato? Non lo so. Sarebbe banale nel diritti bambini perché non è vero, i bambini non mi danno ispirazione, i bambini mi danno risposte che è molto più seria come cosa. Non so cos'è che mi ispiri sinceramente. Molta stima nei confronti degli altri, nei confronti di chi fa meglio di me. Mi ispira tanto, mi muove tanto. E cosa mi spinge a creare contenuti? Purtroppo tanto l'aspetto lavorativo del tutto adesso. Purtroppo tanto il devo farlo perché devo farlo e mi fa un po' male. Però all'inizio e voglio ritrovare questa cosa il più possibile il divertimento. Io mi diverto un sacco a fare i video. Mi diverto a crearli, mi diverto a montarli, mi diverto a pubblicarli e chi se ne frega di come vanno. Devo ritrovarlo un pochino come cosa perché mi è un po' arrivata la malattia dei numeri però cerco di combatterla e di ritrovare la voglia di farlo solo per il divertimento di farlo. Cos'è per te la creatività? L'ho stronzo. La creatività è una sintomatologia in realtà. è il sintomo di qualcuno che ha qualcosa da dire e che deve trovare uno strumento per farlo. La creatività è uno strumento per dire qualcosa. Creare un video, creare un'immagine, una fotografia, un dipinto, una musica, un brano, una coreografia vuol dire voler dire qualcosa. Non lo fai tanto per. Quindi credo che la creatività sia uno strumento. Sì. Quanto contano le collaborazioni con le aziende? Com'è il rapporto con loro? Ti lasciano libero o ti danno vincoli che limitano la tua creatività in modo di essere? Contano a livello economico sicuramente perché sono quelle che ti danno poi la possibilità di investire in te stesso economicamente parlando. Contano a livello anche di esposizione. Selezionare le aziende è fondamentale. Non esporre marchi in cui non credi è fondamentale e anzi esporre marchi in cui credi perché possono dare un servizio vero reale è una figata. Quindi farlo con coerenza è molto importante. anche per cambiare un po' il mondo. Cioè se il tuo obiettivo è passare dei messaggi anche le aziende con cui collabori cambiano il messaggio che passi molto. E spesso alcune aziende sono ancora un po' indietro e quindi pretendono di saper fare rivolgendosi probabilmente spesso a creatori di contenuti per la televisione creatori pubblicitari per la televisione che si stanno reinventando sui social e quindi non hanno gli strumenti comunicativi per farlo in modo corretto. Un sacco di aziende fanno proposte veramente che fanno ridere e dici non funzionerà mai questa cosa. Molte aziende sul contratto pretendono che tu possa creare un trend ti dicono ok da adesso allora ho bisogno che tu mi scrivi a una canzoncina e faccia un balletto che diventi un trend così l'azienda sarà ben vista ma il trend non si crea il trend capita e questa cosa ancora non è stata troppo capita altre aziende sono molto innovative e ti dicono fai quello che funziona tanto è nel tuo interesse cioè è nel mio interesse che un video che io faccia faccia i milioni qui dimmi delle linee guida dimmi delle cose che vuoi che io dica del prodotto però poi lasciami fare perché io voglio che faccia i milioni quindi lasciami fare per te stare sui social è un lavoro? sì 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 ripeto non è un lavoro estenuante ma è un lavoro assolutamente e chi dice il contrario o ha paura di ammetterlo oppure è rimasto è rimasto indietro perché stare sui social è un lavoro esattamente come condurre un programma televisivo è un lavoro esattamente come creare una pubblicità è un lavoro esattamente come recitare in teatro è un lavoro e cavolo il lavoro non è tutto quello che è prettamente manuale è un lavoro con una dignità come tutti i lavori è un lavoro che non va equiparato a lavorare zappando la terra che è un lavoro dignitosissimo ed è un lavoro meraviglioso e chi lo fa con passione anche chi lo fa perché deve farlo deve avere tutta la dignità deve essere riconosciuto ogni grammo di dignità ma tutti i lavori deve essere riconosciuta sicuramente è un lavoro a tratti sovrapagato non bisogna non bisogna nasconderla come cosa nel senso che se ne si approfitta nel modo sbagliato si possono guadagnare tanti soldi alle spalle dell'inutilità è molto complicato come concetto rischio un po' di infilarmi in un ginepraio però per farlo il più semplice possibile per le aziende l'investimento economico che si fa sui social è sempre inferiore a quello che si faceva facendosi di pubblicità in televisione ed è superiore il risultato molto superiore un'azienda che investe nel personaggio giusto ha un feedback economico molto importante investendo molti meno molti meno liquidi però chi lo fa con coscienza avrà sempre ragione anche di guadagnare un sacco di soldi chi lo fa solo per i soldi non dico che sei sbagliato non mi permetto di dirlo ma bisogna essere consapevoli che lo fa solo per i soldi quindi ci sono dei piani però è il lavoro punto lo fai più per lavoro o per spirito di condivisione barra voglia di creare? è una domanda che mi fa malissimo perché è nato con la seconda spirito di condivisione voglia di creare voglio che rimanga così lavorerò perché sia così ammetto adesso che per quanto io continui a creare video solo che mi piacciono solo che mi interessano che possano essere di interesse in questo momento della mia vita sono un po' influenzato in alcuni video dal devo farlo con una certa velocità di creazione perché c'è l'azienda dietro quindi lavorerò perché questa cosa non ci sia più lo faresti ugualmente se non ci fosse un guadagno? sì 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 mi piace troppo mi diverso troppo sì ricordi quando è cominciato a funzionare? è stato molto lento non c'è stato il giorno che è iniziato è stato un movimento lento 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 che è arrivato fino a farlo funzionare quindi mi ricordo il periodo sì sì è tre anni fa non è venti cosa ti gratifica di più di quello che fai? il fatto che si diventi un megafono sempre più grande per comunicare qualcosa è la gratificazione più importante che quando dici qualcosa la gente ti ascolta bello bellissimo cosa faresti oggi se non avessi intrapreso questa strada? beh non lo so un po' mi spaventa non lo so probabilmente passerei molto 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 più tempo all'estero nelle missioni umanitarie e invece che farne quattro all'anno farei probabilmente nove mesi fuori e stare dentro facilmente ok va bene va bene anche che non succeda è meno alienante più bilanciato dove ti vedi in futuro? non credo di volerlo guardare adesso mi costruisco il presente se costruisco bene il presente il futuro mi soddisfacerà mi soddisfacerà? soddisfacerà? interessate? il futuro di essere soddisfatti io sarò soddisfatto? il futuro mi? beh 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 se lavoro bene il presente sarò soddisfatto in futuro rifaresti tutto? rifarei tutto sì chi è Pietro? cosa non sappiamo di dire? tendo a mostrare tutto quello che voglio mostrare che è l'esaltazione dei miei valori veri quelli in cui credo sul serio ci sono delle parti di me su cui sto ancora lavorando che rimarranno in me per un po' di tempo ancora di base io sono un insicuro che ha trovato la propria sicurezza nel mostrarsi e nel mostrare il più possibile ciò che ho imparato nella vita quindi sono un sognatore tanto sognatore parlo spesso dei miei sogni quindi sono un sognatore che cerca di concretizzare i propri sogni a prescindere da tutto e cerca di farlo sul serio che consiglio ti senti di dare a me che sto incominciando? spacca i muri a testate continua 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 e continua non smettere per i numeri non smettere per i feedback se ti piace ti gratifica e ti fa sorridere fa farlo e tutto il resto poi gira di conseguenza tutto gira appunto di conseguenza ciò che ti fa piacere fare fallo vai avanti dritto grazie adesso che ti ho conosciuto un po' di più ti porto nel mio mondo vorrei ritrarti tramite ciò che amo fare la fotografia e condividerti attraverso ciò che tu ami fare e che io sto incominciando a fare i contenuti social bellissimo è un principio che rispetto grazie finito beh che figata grazie 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 grazie